Tutti i giochi così Tutti i giochi così Qua? Non è bella, no? Mamma mia, pure l'oscuro in giro di maniera molto Nooo Addio, ciao Ha già capito? Ti ha conosci con la mamma Non ti faccio male, non ti faccio male No, non è ancora Solo che era un piccolino Allora, ora per favore, che c'è le donne? È giusto? Mazzone Sì, non ci vai presenza Non è qua Fcondate da vuol dire Vai, su, su, su Senza Sì Lenzi Non si falla però, ragazze a giudizio non si parla non si parla, silenzio silenzio la macchina sento io siamo pronti, non vengono io adonati allora, ti chiedete di me tu devi toccare, ti facciamo toccare i capelli, i capelli, le mani, facciamo le mani ok, le mani vieni qua con me una mano per stare quando senti che la mano è bagnone silenzio, non si parla c'è qualche dubbio no no piano piano silenzio, non parlate, non vedete silenzio, non parlate, non vedete potrebbe potrebbe non 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 oh ma guarda su oh ma guarda su eh aspetta non parlate per poi, non ridete maniera eh eh la eh la eh la ma ancora perché decidi no no peggio Poi ti faccio scena di dubbio, ma qua si è spucciato. Basta, basta, Mena, basta. Ma quanti dubbi che ti vengono donato? No, innanzi. Allora, qual è il mio dubbio? Sta qua o qual è il mio dono? Allora, poi del mio, questa. Ok, mi hai fatto anche a capo. Avevi il dubbio su questa? No, questa è una manca di bagnole. O su questa? Avevi il dubbio. Sì. Ti è sicuro? Guarda che la dai un bacio. Sì, sì, sì. Ti è sicuro con dentro? Aspetta, aspetta. Perché sento le decorazioni. Sì, che dai un bacio. Sì, che dai un bacio. Non è lei!